Terra Santissima Scelta o destino? Cosa vuol dire Sud, mamma? Chiese un giorno a mia madre. È un punto cardinale, rispose lei. Sì, ma cosa significa esattamente? Insistetti. Non me lo sono mai domandata, rispose. Io invece credo di saperlo, aggiunsi, convinta di sorprenderla. Sono un diavolo, dissi. Ecco cosa vuol dire. Mia madre raggelò. Non proferì parola. Io però non le ho detto di tregua. Ero arrabbiata. Il sud era la mia terra, ma ero stata costretta a lasciarla contro la mia volontà. Senza aver avuto la possibilità di scegliere. Ricordi, continuai. Cosa scrisse le ogni darapace in quando fu il giorno della Calabria. Diaveva dato forma alla sua più grande creatura. Poi del suo riposo ne approfittò il diavolo. E della Calabria incluse tutte le meraviglie che il creatore le aveva attribuito. Si era in possesso le diavolerie di questa terra. Credimi, mamma. Non ne hanno altre spiegazioni. E noi che cosa possiamo fare per salvarci, Simona? Quando si è accorsa di non avere scampo davanti alla mia puntuale analisi. Dobbiamo cambiare, mamma. Possiamo trasformare questo inferno in paradiso. Si parte. Non c'è più tempo da perdere, disse mio padre. E né mia madre né io, che avevamo appena nove anni, avevamo il coraggio di obiettare, fare domande e chiedere agli appunti precisi sul viaggio che ci accingevano fra l'improvviso. Non avevamo mai lasciato Castelnuovo. Solo la morte si era giurato mio padre, nonostante le impregazioni verso quella terra per cui da sempre nutriva precise riserve e l'amavo o lo odiava. Mio zio Tony aveva lasciato il paese. E anche mio padre. Non appena compiuto 18 anni, la vita dei pastori della Spromonte era stata sempre dura e quella da cui proveniva mio padre era una famiglia di pastori. Suo fratello della Spromonte non l'aveva mai amato davvero. Non si era mai appassionato neppure alle storie dei draghi e delle pietre. Aveva sempre cercato una via di fuga. E non appena gli si presentò l'occasione, il sogno si chiamava America. Mio padre invece sosteneva che laggiù nell'America, dopo aver attraversato il grande oceano, più d'uno ne stava fottuto. Allora tanto meglio il paese, che per quanto potesse tradire almeno era il tuo. Vedrai, disse suo fratello Tony prima di salire sulla nave che lo avrebbe portato lontano da lui. Laggiù ti imprascherai con la terra che hai scansato in patria. E per l'ultima volta tirandolo su per la giocca e denti stretti gli ripetete di restare. Resta qui Tony, invece partì. E hanno passato i tanti anni da allora, ma la vita non aveva mai smesso di provarlo mio padre. E quando ripensava al viaggio di suo fratello e alle privazioni alle quali il paese aveva costretto lui, aveva ragione Tony, ripeteva con durezza. E quando mia madre gli domandava cosa intendesse dire, per vaso di arraggio e di amarezza, appuntando la dritta negli occhi gli rispondeva bavoso. Aveva ragione e basta. Frati mi aveva ragione. Pensavo mi portassero in vacanza. Che scendendo dalla montagna avrei toccato il mare con le mie mani, scrutato dalle sue bellezze. Mi sarei specchiata nella sua acqua limpida come una regina. E mi sarei bagnata i capelli cospargendoli di sale. Il mare era una scoperta che faceva parte dei miei desideri, partecipava ai miei sogni e si insuinovava nei pensieri fantastici. Dall'altro l'avevo sempre confuso con il cielo. Due sette metà che si congiungevano all'orizzonte. Lasciata la montagna costeggiamo nel basso Ionio, Bobalino, Bianco, Brancaleone, fino al Reggio Calabria. Picca picca si vedeva lo strato di Messina, la gioielleria del Mediterraneo. Il mare orlava la costa. Si ornamentava di riflessi, figure geometriche e forme libere, con giochi di luce ed effetti mitologici e leggendari. Virilu bonu, Simona, scattò mio padre, col petto gonfio dei piccioni. Un mare sospeso tra due terre e tra due fari. Un blu che non corrispondeva a nessuno dei colori del cielo. Intensa e striato, a tratti apocalittico indefinito, piatto e infermento. Viri, viri quanto errandi, continuò. E con gli occhi mi portai oltre la superficie. In mezzo a una miriade di onde spumose che andavano calabre e sicule, erano di ritorno. Ma tutto accadeva di fretta. Del finestrino del treno che, mentre il treno lasciava Reggio, anche allo stretto, il vetro sembrava tingersi dello stesso colore del mare. E con lui si ammarraggiava. E sempre ammarraggiato il padre. Il mare, papà, gli chiesi senza riuscire a smettere di fissarlo. No, Simona, è cauto e tempestoso. Feci rima un'antichia e poi è caligine. Il mare, come me, aveva le sue giornate. Se era triste, faceva un'antichia di rema. Se era arrabbiato, si ammarraggiava forte. Se era caligine, era felice. Era la prima volta che partivo davvero. Che vedevo il mare da una distanza così ravvicinata e che prendevo un treno di lunga percorrenza. E anche a me, anche a mie spese, capivo che i viaggi non sono da punti di rottura tra ciò che si lasciava e ciò che si va a trovare. Mi chiamo Simona. Dal mio primo lungo viaggio in treno verso Milano sono passata circa vent'anni. Il giorno della partenza non ho portato con me tante cose. La prenderai la prossima volta, avevo detto mio padre. Non ci sono mai più ritornata. Le cose lasciate laggiù sono rimaste per sempre lontane e sole. Paolino non l'ho mai dimenticata. Aveva undici anni quando sono partita. Un ciuffetto cascante sopra la fronte alta e le fossette a tirabacito le guance. Era il mio coso preferito. Lui mi chiamava Cosa e io Coso. E non perché non ci piacevano i nostri nomi, ma Cosa e Cosa erano la perfetta alchimia tra il bene che ci provavamo l'una per l'altra e i luoghi in cui non facevano altro che volerci bene. Quando mi veniva a trovare, Paolino mi portava sempre qualcosa, un regalo. L'ultima volta me l'aveva donato un confetto. L'aveva raccolto a un matrimonio di sua zia Rosa. All'uscita della messa, missi ai soldi spicci, li avevano gettati a pugni sopra gli sposi. Un gesto buffo che augurava abbondanza e che faceva parte degli usi e dei costumi con cui veniva tessuta la storia della nostra terra. È per te, mi aveva detto. Il giorno dopo, però, senza neppure salutarci, sono partita. Il coraggio di scrivergli non l'ho mai avuto. Non è stata colpa mia. Non sapevo nulla di quel viaggio, né della fretta con cui mio padre me lo faceva fare. Non era al corrente del mio destino. Forse nessuno lo è. Di partire non l'avevo mai neppure immaginato. Tuttavia accadeva. Mio padre aveva deciso per me. Mi aveva dato tanto mettendomi al mondo, togliendomi poi tutto ciò che avevo. Perché siamo partiti? Papà, gli domandai quando era passato già un mese dal giorno in cui avevamo lasciato la montagna. Il paese non era un luogo felice, ma era solo il che faceva battere il cuore. Era arrabbiata, ammaraggiata forte, corrucciata come il mare quando fa i suoi rumbuli. Si impenne e gira, si rigira senza acuntu. Le vacanze non erano che la mancanza temporanea da un posto e finivano prima o poi. La nostra invece durava più del previsto. Troppo a lungo per me che laggiù aveva lasciato il cuore. Paolina e la figliolanza, che erano le cose più belle e vissute in Aspromonte, tra l'odore di mia madre e quello della montagna. Il sapore del pomodoro stricato crudo. Sopra la fetta del pane, la gioia dell'uovo cotto sotto la cenere del bracere. Perché quella terra è malata, Simona? Aveva risposto lui. Malata di che? Me l'ero sempre chiesto. Nessuno mi aveva dato mai precise risposte. Mio padre non se ne era affatto preoccupato. Forse se ne era volutamente sempre scansata. La raggia per la partenza di Ziotoni per l'America e la nostra partenza per Milano non l'aveva mai del tutto smaltita. La terra malata da cui ero partito da bambina impiegai vent'anni di vacanze fuori porta a capire di che soffriva, ma soprattutto che poteva guarire, che era speranza che nessuno si premurava a darle. Aveva diritto ad averla. I suoi uomini e le sue donne i calabesi di dentro e di fuori in tutta la loro interesse erano l'unica sua speranza possibile. Toccava a loro guarirla, riportarli in libertà, liberarle la chiglietta e la sabbia in cui gli usurpatori l'avevano incagliata. Io ero calabrese, sapevo che si può disotterrare un tesoro dalla terra dura. La durezza della terra è la scommessa su cui puntare. Più la terra era dura, più era buona. Più era dura, meno era stata sfruttata. E la terra riposata produce il doppio. Essa va ammorbidita con le mani forti del padrone. Il lavoro del padrone è vero reddito della terra. La terra è il suo salario. Se però essa rimane sola, da terra dura si fa terra margia e dalla terra margia non si può disotterrare nulla. Fine prima parte.